Gnocchi di patate Aggiungiamo un po' di sale Formiamo una fontana nella farina Schiacciamo le patate con schiacciapattate Aggiungiamo un uovo Impastiamo fino ad ottenere un panetto omogeneo Aggiungiamo un po' di sale Una regola di non lavorare l'impasto troppo a lungo L'impasto è pronto E' il momento di preparare i gnocchi Con un spolvero di farina formiamo un filoncino Iniziamo a tagliare i gnocchi Iniziamo un po' di sale 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 Cottura dei gnocchi Acqua bollente salata Duffiamo i gnocchi Appena riaffiorano ora no, sono pronti per condire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.